I molti si chiedono come accumulare gli star drop, ebbene in questo video vi spiegherò come fare, c'è solo un modo Dovremmo fare ben 8 partite vinte consecutive sfruttando il tasto play again e il gioco ci farà aprire più star drop contemporaneamente Quindi è il primo appena livellato in Brawl Ball e vediamo cosa riusciamo a fare Ragazzi attenzione, ma è matto! Ragazzi matto! Ragazzi trick subito così Mamma mia cosa stavo per cliccare! Ferma ferre, ferma! Mamma mia, non si sbaglia! Silenzio! Attenzione il tiro! Matto! Matto ragazzi, matto come un poggiolo! In teoria dovrebbe aver accumulato gli star drop, vediamo un po' E star drop è raro, ce lo godiamo, poi vediamo se arriva la magia Guardiamo bene l'animazione alla fine di questa apertura, ok? 1, super raro, sono già soddisfatto, vediamo un po', super raro, super raro, super rare, va bene Vediamo l'animazione ora, sbuca, sbuca ragazzi così, pom, perfetto Se mi dai raro alla fine sei un po' infame, mi raccomando eh Ragazzi, venti!